Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati. Guardate che bel parterre des rois questa sera, organizzato, li conoscete tutti ma comunque in senso orario per come li vedo io, Mario Iannacone, Roberto Marchesini e Danilo Favroni. Ciao a tutti, grazie della partecipazione, grazie a tutti. Allora, perché questa sera siamo così tutti qui riuniti per parlare di un argomento storico che è stato sviscerato in tantissimi modi e anche qui sull'Orizzonte degli Eventi ha avuto dedicate diverse puntate da vari punti di vista. Parliamo del 68, diceva come ancora parlare del 68? Sì, perché cogliamo l'occasione di questo volume uscito da pochissimo di Roberto Marchesini, 68, illusioni e inganni. Quello che è interessante di questo libro è che è un riassunto ottimo per avere sotto mano tutti i concetti fondamentali che dal 68 poi ci hanno portato a questi tempi ultimi, chiamiamoli così in maniera escatologica e oltre all'autore, appunto, Roberto Marchesini c'è una citazione del lavoro che ha fatto Danilo Favroni nel suo libro, il 68, di cui abbiamo parlato in un video credo che fosse il primo che abbiamo realizzato e c'è anche la prefazione di Mario Iannacone quindi direi che siamo tutti coinvolti piacevolmente in questa produzione di questo libro. Allora, questa sera sarà una chiacchierata tra amici, tra studiosi che hanno appunto approfondito nei loro volumi questo argomento e soprattutto le sue conseguenze, i suoi effetti collaterali, i suoi effetti avversi, possiamo dire, a lungo termine e darò qualche spunto sul quale mi piacerebbe che i nostri amici riflettessero assieme e assieme a voi che ci ascoltate. Allora, il primo spunto che vi do che si riallaccia un po' all'attualità ovvero l'utilizzo degli studenti come forze rivoluzionarie. Allora c'erano le occupazioni con 2K adesso ci sono le tende. Allora, dico due cose io. Vai Mario. No, no, fai tu, fai tu. No, due cose molto semplici. Allora, abbiamo visto, ci abbiamo dedicato anche una puntata come è facile manipolare le persone. Ancora più facile è manipolare i giovani, i ragazzi soprattutto in quella fascia d'età che, perdonate il paragone poco elegante, che non hanno ancora perso la verginità immergendosi nel mondo del lavoro che è una giungla. Perché finché sono a scuola sono protetti, gli adulti si occupano di loro, c'è un codice morale che regola i rapporti tra di loro ecco ovviamente tutte queste cose saltano nel mondo del lavoro. Quindi loro hanno fiducia nelle istituzioni, nelle autorità perché si prendono cura di loro, insegnano, li formano eccetera. Non hanno ancora conosciuto l'ipocrisia del mondo perché il loro mondo non è un mondo ipocrita e sono un po' protetti dall'ipocrisia del mondo degli adulti quindi è ancora più facile manipolarli. Questo non è una cosa tanto disgiunta da tutti quei fenomeni di ansia che vediamo adesso negli studenti universitari e anche negli studenti superiori a volte anche quelli più piccoli. Soprattutto negli studenti universitari questa cosa dal mio punto di vista è collegata all'idea di non essere abbastanza per entrare nel mondo del lavoro e nel mondo degli adulti perché loro hanno queste immagini nel mondo degli adulti dove ci sono persone competenti che hanno grandi ideali che combattono il male e combattono l'ingiustizia. Quindi è ancora più facile utilizzare gli studenti che hanno questa visione del mondo degli adulti e delle istituzioni per cui se non è difficile mettiamola così non è difficile manipolare o tentare di manipolare gli adulti è ancora più facile farlo con quella fascia d'età. Poi sono molto idealisti ed è molto facile buttargli in pasto che ne so qualche valore l'ambiente o i poveri eccetera eccetera e questi come dire ci credono perché loro ai valori ci credono ancora veramente non sono come la maggior parte degli adulti non dico tutti che hanno un atteggiamento ipocrita nei confronti dei valori. Ecco questo secondo me è il motivo per cui io non credo che le rivoluzioni siano spontanee che nessuna rivoluzione sia spontanee questa è la mia idea quando usano i giovani secondo me è una manipolazione pura. United Colors of Revolution potremmo dire. Esatto. Anticipando una puntata che faremo con Mario sulle rivoluzioni colorate e su un personaggio legato a queste rivoluzioni culturali. non vedo l'ora ecco voglio chiederlo a Danilo continuando il discorso sugli studenti su quelle forze che animarono il 68 facendolo percepire come un fenomeno spontaneo ecco la tua opinione su questo perché tu sei colui che ha cognato questa immagine del 68 del tridente di Shiva ovvero Sex and Drugs and Rock and Roll che poi vedremo che effettivamente sono state tre armi molto ben appuntite con le quali andare a pungolare le certezze che si credeva di avere allora. Ecco la tua opinione su questo aspetto del 68 cioè sull'avere utilizzato questa forza vitale dei giovani. Grazie Barbara io cerco ma molte volte fallisco devo confessare di dare a Cesare quel che è di Cesare e in Italia non sono stato il primo a mettere l'accento su questa cosa perché ma non per piageria che non fa parte del mio carattere ma sicuramente il testo di Mario è stato il primo in Italia a illustrare questa problematica qua e allo stesso tempo proprio per dare a Cesare quel che è di Cesare la sintetica immagine del trisciula o trisciula che dir si voglia il tridente di Scivar mi fu data da Gian Nicolo di cui abbiamo parlato in questa sede lui evidenziava appunto diciamo in una maniera colta dal suo pari che il famoso motto slogan sex drag rock and roll in realtà costituiva il tridente di Scivar no il tridente ovviamente cosa significa una cosa che ha tre pioli ho detto questo per rispondere alla tua domanda vorrei citare una semplice tranche dei vi perché poi a me piace sì fare dei voli pindarici ma anche per mia formazione sono diciamo una persona molto pratica avendo lavorato tanti anni con le mani piuttosto che con la mente speriamo che quando ho lavorato con le mani abbia fatto usare un po' anche la mente perché dico questo dico questo perché pur avendo conosciuto di persona Diego Fusaro non sono un fusarista come tanti nel web però mi piace mi piace essendo curioso cercare di recepire di sussumere anche delle cose che sono contrarie un po' diciamo al mio modo di vedere e Fusaro insistentemente come noto pone all'indice a un indice positivo la figura di Gramsci e uno dei detti di Gramsci è questo mettetevi prima di giudicare gli altri di sparare sentenze mettetevi nei panni degli altri anche se diciamo il colletto della camicia è sporco eccetera eccetera è un bel esercizio un po' faticoso è un bel esercizio perché dico questo perché diciamo ci sono state certe reazioni alla tematica del 68 vista diciamo non da come la vista che ne so io l'onusto Mario Capanna cioè quegli anni formidabili facevano così ma è possibile che si possa creare un movimento dal nulla totalmente dal nulla come se ci fossero diciamo degli agitatori di marionette e in effetti io ritengo che ci sia anche una parte di ragione in questa posizione diciamo quello che affascina secondo me gli apprendisti stregoni non è creare qualcosa dal nulla ma intervenire in un movimento che magari allo stato grezzo è sorto spontaneamente e diciamo dirigerlo ai propri fini e concludo e concludo con questo noi abbiamo due esempi di cui non potremmo definire bene ma non perché non lo possiamo dire ma perché diciamo è la verità è acclarato non abbiamo la pistola fumante come qualche commentatore dei nostri video dei tuoi video ha voluto sottolineare l'università di Trento noi abbiamo avuto lì dei caporioni come Alberoni come Francesco Alberoni addirittura Aldo Bonomi che hanno descritto specialmente il primo in un suo libro molto famoso Stato Nascenti come si potevano cogliere certe istanze certe direttive certi desideri di un movimento che stava nascendo ora dico in certi esperimenti della fisica quantistica la presenza di un operatore incide sui risultati di un esperimento e io dico da quando mondo è mondo e io mi ricordo quando ebbe nella terza media un professore di chiara estrazione maoista molto colto che mi colpì nonostante che non fossi tanto diciamo da quella parte ma sicuramente è un rapporto bionivoco se una persona è di paglia una persona che ha spessore sicuramente inciderà come si diceva a poc'anzi dicevate voi sui giovani virgulti che si stanno formando è naturale è stato sempre così e quindi chissà mi sono sempre domandato chissà che queste menti raffinatissime come quella di Bonomi e di Alberoni che guarda caso ma sicuramente molto meritatamente hanno fatto una carriera sfolgorante hanno voluto delle prebende incredibili se non ero Bonomi sta anche dalla parte di Confindustria oggi come oggi e chissà se non abbiano avuto una certa influenza un certo peso e questo diciamo è un punto interrogativo che può stimolare magari un pensiero speriamo dotato di onestà intellettuale quindi aperto a diverse suggestioni in sostanza voglio dire che i movimenti possono essere anche spontanei cioè durante la rivoluzione che poi produsse l'illuminismo la gente sicuramente aveva fame e non c'erano un certo le brioche della moglie del re prone a sfamare le persone e poi dopo c'era tutta quella circolazione della letteratura pornografica che animava e surriscaldava voglio dire le masse e c'era un po' fluvio voglio dire ne ha parlato George Dubin ne ha parlato Mark Bloch cioè voglio dire storici non ricercatori casalinghi come il sottoscritto e quindi tutta quella circolazione di letteratura a qualcosa sarà servito quindi se facciamo due più due il quattro ce lo immaginiamo ok ho chiuso grazie ecco a Mario vorrevo chiedere in questo in questo 68 nel periodo antecedente tutto di preparazione perché è un fenomeno che è stato preparato come sempre succede e quando si creano le grandi trasformazioni epocali i grandi cambiamenti non sono cose che arrivano improvvisamente ecco questo lento sabotaggio delle istituzioni dei punti di riferimento per esempio partendo dalla scuola come la si vuole cambiare oggi abbiamo un punto di riferimento che è quello che è successo negli ultimi anni dove si è tentato addirittura di eliminare il concetto di presenza di rapporto diretto tra i docenti e gli studenti adesso invece gli studenti si preoccupano di non poter andare a lezione fisicamente comunque ecco cosa si cominciò a mettere fortemente in discussione di questo sistema cardine della società allora domanda interessante torno indietro un attimino ma proprio per fare inquadrare bene la risposta che potrei dare allora diciamo che fino a fine ottocento primi del novecento non esisteva il concetto di gioventù come separata dagli adulti no i giovani erano una categoria di persone che attendeva di diventare adulti c'è un bellissimo libro che si chiama Padri e figli di Chenoux uno storico francese che mostra proprio questa questa assenza di una categoria separata della della gioventù la gioventù come forza di manovra che chiede rinnovamento rivolta e in quel caso anche sangue nasce con con gli anni dieci con gli anni dieci con la prima guerra mondiale i movimenti no della gente che poi andrà in guerra e dopo giovinezza giovinezza esatto giovinezza giovinezza ci sono studi interessantissimi diciamo di taglio storico e anche sociologico che mostrano la nascita di questa di questa nuova categoria che poi viene profilata meglio e caricata meglio negli anni venti negli anni venti e negli anni trenta nasce una letteratura per i giovani e nascono le istanze dei giovani che vanno contro i padri iniziando dalla scuola dall'università non ancora dalla scuola superiore ma dall'università questo fenomeno poi sarà evidentissimo e ancora più potente dopo la guerra la seconda guerra mondiale anni 40 anni 50 la categoria di giovani diventa una categoria a parte che ascolta una sua musica che legge i suoi autori che ha le sue idee che sono differenti da quelle dei genitori e quindi il matusa tutte queste cose che si sentivano negli anni 50 60 quindi quando arriviamo agli inizi degli anni 60 esiste una massa di manovra di giovani in quel caso politicizzati se non sono politicizzati hanno comunque delle istanze portano delle istanze di trasformazione e cambiamento soprattutto sulla scuola e quindi quando arriviamo al 68 è perfettamente maturo questa massa con le sue idee che è a parte che ha una sua musica a quel punto che è il rock che viene creata proprio per i giovani e si comincia a parlare di giovani si cominciano a fare dagli inizi degli anni 60 i programmi per i giovani in Inghilterra in Francia anche in Italia e quindi a quel punto sono una massa di persone tra l'altro per i baby boomer molto numerosa e staccata dai genitori staccata dai padri che può senza problemi rivolgersi contro la scuola in primis l'università ma anche diciamo le scuole superiori senza eccessivi rimorsi tra l'altro quelle erano periodi in cui si stava bene in cui non c'era bisogno di andare subito a lavorare cioè molti diciamo uscivano al barcare in un'area stare a casa non uscivano subito di casa e quindi quello che diceva prima Danilo ad esempio sulla manipolazione fatta su queste masse nelle università italiane francesi inglesi ma soprattutto italiane noi conosciamo il caso di Trento conosciamo fatta con grandissimo successo perché insomma poi quando scoppiò quando ci fu il grido di battaglia fischio in tantissimi paesi del mondo aggirono nello stesso momento come era successo nel 48 nel 1848 e nel 1830 non c'era lì allora non c'erano i giovani c'erano i borghesi che ma comunque sono dei movimenti evidentemente sincronizzati questo sì la caratteristica del 68 come quella del 18 come quella del è appunto la rivolta dei giovani contro la scuola poi in particolare sì perché poi la prima istanza è quella dell'università avevano un loro linguaggio avevano già un loro modo di vestire che era unico c'era stata un'informazione dal punto di vista così anche dell'immagine e quindi insomma la cosa riuscì benissimo perfettamente gli elementi cosiddetti di destra furono facilmente riassorbiti ed espulsi dopo i primi giorni perché la rivolta fu generazionale all'inizio e rimase poi un movimento di come dire sinistra già quasi viola o fucsia come si dice oggi dal punto di vista proprio dell'utilizzo un termine da psicologo il setting nella scuola si comincia a mettere in discussione anche gli spazi della scuola quindi non più i banchi ma il cerchio seduti per terra all'aperto quindi si mette in discussione proprio anche simbolicamente anche visivamente quello che era un modo per gestire appunto in una situazione di controllata l'istruzione però facendo capire che e qui è un punto centrale del concetto generale di dissoluzione che tutto quello che era precedente era sbagliato era oppressivo era qualcosa da superare quindi c'è stato anche uno studio proprio anche di immagine come si direbbe oggi su come modificare queste istituzioni proprio anche visivamente anche come come vengono organizzate una rappresentazione diversa un po' come il teatro che non era più paludato con una netta separazione tra pubblico e attori ma abbiamo cominciamo a avere gli attori che scendono in mezzo alla platea che si elimina il sipario che cala quindi non si capisce quando finisce la commedia o il dramma eccetera questo stravolgimento proprio anche dello spazio delle dimensioni ecco come la vedete voi chi vuole rispondere ma io vi racconto un po' la mia esperienza io praticamente ho vissuto la mia esperienza scolastica con i post 1068 ho avuto un'esperienza scolastica fantastica per cui fin dall'elementare non ho studiato le tabelline e le poesie a memoria però sapevo tutti i canti partigiani a memoria il mio programma di studi delle superiori in quinta erano i Velvet Underground Nico e i Velvet Underground e poi all'università ho trovato la Pantera quindi abbiamo chiuso il cerchio nella maniera più perfetta e io ecco vi ricordate che era scappata la Pantera movimento giovanile della Pantera e in tutta questa esperienza c'era una opposizione secondo me anche ideologica che è durata per tanti anni anche fino a qualche anno fa in certi ambienti di lavoro pubblici che c'era l'odio per la chiamavano così la lezione cattedratica cioè l'idea che ci fosse uno che sapesse le cose e gli altri che non le sapevano e che quindi dovevano imparare per cui c'erano delle maestre che facevano mettere i banchi in cerchio tutte le volte che si faceva un incontro in assemblea bisognava mettersi in cerchio l'idea era quella che non c'è neanche dal punto di vista culturale formativo eccetera non c'è un'autorità ma siamo tutti uguali a un certo punto mi ricordo nell'ente pubblico mi è successa questa cosa che è arrivato il formatore che aveva un linguaggio proprio 68 io non ci capivo niente a un certo punto gli operatori del servizio pubblico sono insorti e hanno chiesto una lezione cattedratica perché era troppo faticoso per loro costruire una lezione quando loro dicono io ho lavorato tutta settimana adesso sono qui per imparare e devo mettermi a improvvisare una lezione dicendo cose intelligenti su cose che non so perché la realtà è che non le so quindi mi ricordo questo episodio c'è stata un'insurrezione degli operatori e questo insegnante ha dovuto per forza organizzare un discorso che non si era preparato perché la lezione doveva essere circolare e improvvisare una lezione cattedratica quindi a un certo punto abbiamo avuto in mente questa cosa che forse siamo anche un po' stufi di questa circolarità insegnateci qualcosa qualcuno che sa ci dica due o tre cose ecco paradossalmente la cattedra oggi non è il salotto televisivo dal quale concionano i vari esperti allora intanto è interessante questa cosa della cattedra perché originariamente la cattedra era la sede vescovile cioè la cattedra è quella dove siede il vescovo e dove insegna il vescovo poi questa cosa è passata nella scuola io ho una mia tutta una mia teoria sulla scuola però in modo abbastanza abbastanza improprio anche lì è successo questo dal mio punto di vista poi l'esperto è Mario ma la diffusione del talk show ha creato questa situazione cioè non c'era tu non ti mettevi più davanti alla televisione per ascoltare qualcuno colto preparato eccetera ma per ascoltare l'umanità più varia poi i reality show eccetera eccetera secondo me l'idea è ancora quella per cui la cultura la possono fare tutti tutti possono dire la loro eccetera eccetera e nonostante questo il risultato è esattamente quello che dici tu Barbara cioè che se una cosa la dice la televisione la dice il primo cretino in televisione non so un mio condomino che per sottotitura va in televisione diventa improvvisamente autorità cioè è il mezzo che fa l'autorità e non quello che dici quello che hai studiato quello che sai eccetera eccetera quindi torniamo a McLuhan che diceva che il mezzo è il messaggio non è neutro il mezzo certo senti Danilo a te volevo chiedere un discorso abbiamo fatto varie volte su queste strane commissioni tra certi mondi il mondo dei militari e il rock abbiamo fatto una bellissima puntata su un libro che parlava di dei luoghi proprio californiani dove c'erano nascevano questi queste rock star che poi erano figli di generali di vari personaggi a dentro o ai militari oppure ai servizi quindi secondo te il 68 al di là insomma delle sue manifestazioni concrete non è stata molto un'operazione psicologica forse la più importante fatta prima di questo nuovo millennio dove andiamo di operazione psicologica psicologica non è finita ancora una che ne comincia un'altra ma quella fu un'operazione in grande stile come tu poi hai anche dimostrato nel tuo libro ma sempre per stare sul dare a Cesare quel che di Cesare il sottotitolo Magie Velini Incantesimi che diciamo ha una sonanza anche a quanto ha scritto molto più diciamo recentemente Roberto ha fatto alzare diciamo a una certa organizza certi ascoltatori diciamo uditori come li vogliamo chiamare coloro che guardano questi video con diciamo la critica che oggi come oggi in una società così secolarizzata voglio dire prima abbiamo citato l'illuminismo no l'illuminismo sappiamo sappiamo in parole polvere che voleva lo scopo principale era buttar fuori la superstizione e dalla finestra far entrare dalla porta la dea ragione no e siccome io mi vanto di essere un aneotto neanche un nano sulle spalle dei giganti e ripeto la mia diciamo la mia analisi sempre casalinga e vorrei mettere loro signori e quindi colgo ti ringrazio barbara perché mi fai togliere un po' mi dai l'occasione per togliere un po' di petrisco dalle scarpe da barca e li metto in confronto con diciamo uno dei purtroppo avevamo perso da poco tempo uno dei più grandi pensatori che negli anni passati ha cavalcato le scene internazionali parliamo di scene internazionali non quelle di talk show anche se è andato anche di talk show con Fazio ma voglio dire è stato ospite in Giappone è stato ospite della Yale University delle varie università della Ivy League statunitense Roberto Calasso e Roberto Calasso su un video quindi inconfutabile dice che noi viviamo viviamo allora lo diceva pochi anni fa in un tipo di società che è la più credula che mai mente umana mai mente umana possa ricordare e a questo proposito io che voglio dire non mi posso certamente confrontare con una mente così fuggida diciamo ma di nuovo casalingamente dico ma se noi non crediamo che queste magie queste illusioni come ha scritto Marchesini questi veleni questi incantesimi potessero essere all'opera io non ho la pistola fumante come di nuovo qualcuno perché faccio un giudice non estruisco processi ma tra parentesi svariate commissioni moro non hanno trovato la pistola fumante quindi perché la si debba ricercare fra di noi non lo capisco ma veniamo al dunque qui concludo ma grandi influencer che non sanno enormi che hanno un seguito oceanico che non sanno fare un no con un bicchiere influencer che non sanno fare niente che attirano migliaia di persone beh o vanno a marchi e non è magia non sono veleni incantesimi eppure lo fanno in una maniera diciamo relativamente casalinga e quando andiamo invece a soppesare chiamiamogli organismi che hanno dei budget sconfinati hanno migliaia e migliaia di persone al loro servizio e di nuovo torniamo a quanto avevamo detto poc'anzi è possibile che non ci sia nessuna influenza nessuna magia nessuna illusione beh mi parebbe mi parebbe un po' strano e io qui casualmente quel libro di cui abbiamo parlato We've seen inside the lower canyon e qualcuno ha detto ma cosa c'entra Zappa era contro la droga nonostante che sia lui che la moglie provenissero da ambienti militari e c'è una percentuale spaventosa di quelle persone che provenivano da ambienti militari e quando si è dall'ambiente militare una volta per esempio il figlio del carabiniere molto probabilmente diventava carabiniere il nipote il nipote del carabiniere diventava carabiniere e se uno in Italia avesse avuto dei parenti comunisti o anarchici non poteva diventare carabiniere quindi qui concludo era facile che qualcuno potesse essere di quella schiera non tutti avvicinato e quindi voglio dire ci può essere stato un appoggio un appoggio da parte di alcuni di quella schiera dico alcuni che non erano magari dentro ai servizi però capita di fare un favore come hanno fatto tantissimi scrittori Sommest Morgan per esempio Ian Fleming eccetera eccetera ce ne sono voglio dire il bellissimo libro di Francesca Dono Stoner sul pifferaio magico ha dimostrato ampiamente che il Congress for Cultural Freedom era etero diretto e molti di loro siccome dietro ci sono elementi raffinatissimi non sapevano neanche cosa stessero facendo spero di avere in qualche maniera così diciamo confusa risposta alla tua domanda sì aggiungo una cosa non vorrei complicare la faccenda però io trovo sempre più nella nostra società nel nostro modo di vivere la presenza di un pensiero di tipo gnostico l'agnosi ricordiamoci che essendo un fenomeno pur essendo un fenomeno religioso rifiuta in modo netto anzi proprio abborrisce la religiosità tradizionale per la storia del demiurgo eccetera eccetera e si oppone in maniera molto recisa alla legge morale naturale quindi non è detto che un fenomeno contro religioso contro la morale sia necessariamente un fenomeno a religioso ok dal mio punto di vista cioè poi magari sta cosa andrebbe approfondita però dal mio punto di vista c'è una presenza sempre più forte di un pensiero gnostico tra l'altro proprio in quegli anni usciva un libro importantissimo di Sam e Clodovici che era metamorfosi dell'agnosi in cui diceva esattamente questa cosa qua cioè noi non siamo più abituati alla presenza dell'agnosi ma lui leggeva tutta una serie di fenomeni di allora come fenomeni gnostici ecco a Mario poi ritorno a Roberto perché voglio che racconti un aspetto della nascita del 68 che è poco conosciuto soprattutto dove nasce il 68 che non è Parigi nel mese di maggio ecco con il 68 cambia l'immaginario è un grandissimo attacco all'immaginario perché cerca da quel momento si cerca di manipolarlo si cerca di aprirlo a determinate suggestioni e a chiuderlo ad alcune convinzioni certezze che presistevano a quel periodo ecco quindi l'immaginario come viene aggredito come cambia come cerca di difendersi e che cosa è poi cosa è diventato quello delle serie televisive di Netflix delle notizie sempre più folli palesemente false che leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione che forma poi l'immagine della realtà che dovremmo avere ciascuno di noi allora inizierei da questo a me ha impressionato anni fa ormai la lettura di una serie di testi di Elemir Zolla che furono raccolti in un volume che si chiamava Il Conoscitore dei Segreti ed era stato questo volume curato dalla moglie grazie a Marchiano quindi fu pubblicato dalla Rizzoli penso subito dopo la morte di Zolla attorno al 2005 2006 e in questo libro lui che insegnava a Berkeley agli inizi degli anni 60 notava che alcune classi avevano iniziato su iniziativa di psicologi insomma di personaggi che erano entrati in università a fare le loro lezioni non più in caffedra ma in cerchio e lui si riflette su questa cosa dicendo ma guarda questa è una cosa nuova tra l'altro lui faceva un po' parte di questi mondi soprattutto dopo per cui era molto sensibile a questi cambiamenti diceva da qui non possono che nascere delle grandi trasformazioni dei grandi cambiamenti se la cosa prenderà piede e la cosa prese piede perché poi molte lezioni cominciarono a essere fatte negli Stati Uniti e poi anche da noi 65 66 67 in questa forma che potremmo citare anche Don Milani e altri insomma pescavano un po' da lì e da lì poi nasce anche come è stato detto prima il sì anche il modello del talk show il talk show è circolare e i primi esempi in Italia li abbiamo con i talk show di Falivena che sono proprio del 68 ora che cosa significa il cerchio il cerchio significa che la mia opinione è uguale alla tua che la mia opinione se ho studiato tanto vale come la tua che sei andato a cavallo tutta la vita oppure hai conosci tutto delle noci ma non hai studiato lottino per dire ogni diciamo conoscenza pratica vale come l'altra quello che conta è l'opinione e qui arriviamo all'immaginazione l'immaginazione il famoso motto l'immaginazione al potere l'immaginazione al potere significa che qualunque cosa può essere immaginata senza limiti può diventare qualcosa che incide sulla realtà e quindi l'immaginazione al potere significa togliere limiti dare stura insomma all'immaginazione in tutti i modi e rendere possibile il fantasticare al posto del pensare quindi la fantasia al posto del logos e qui siamo arrivati poi alla fine siamo arrivati a questo io ascoltavo l'altro giorno un dialogo fra un signore barbuto molto ben messo con la gonna ma aveva anche la barba che stava parlando ad un giornalista insomma un intellettuale americano e i due sono stati mezz'ora a discutere perché il signore barbuto con la voce piuttosto bassa che quindi non era andato a Casablanca per intenderci diceva ma insomma lei mi dimostri che io non sono una donna e questo diceva beh ma io lo vedo che lei non è una donna e io mi sento donna lei come fa a mettere in discussione questo mio sentire profondo che sento da sempre sì sì mi sono fatto crescere la barba ma si può trovare fatto crescere la barba ma perché non ho avuto tempo di di tagliarmi ecco questa è l'immaginazione del potere l'immaginazione del potere che possiamo adesso applicare a tutti gli ambiti militari ad esempio sappiamo adesso che i russi non c'entrano niente con la liberazione dell'Europa dal nazismo è l'immaginazione del potere cioè possiamo immaginare qualunque cosa ed essere come dei personaggi di Blade Runner o di qualche altro film ecco anche qui aggiungo qualcosa ho visto recentemente che con l'intelligenza artificiale riescono a inventarsi delle fotografie dei filmati ho visto delle fotografie di Trump con il mitra che correva eccetera eccetera questa roba è impressionante vuol dire che non sapremo più non avremo più neanche le prove documentali è 1984 cioè possono riscrivere in qualunque momento la realtà sì sì è l'immaginazione del potere sì cioè applicata alla tecnologia perché in realtà dovrebbe essere messo un limite a tutto questo ma no non c'è più il limite perché adesso è l'immaginazione che impera è vietato vietare vietato vietare vietato vietare il limite certo anzi il limite viene messo alla realtà perché certe cose non le puoi più dire cioè il re è morto il bambino gli sparerebbero prima che dica il re è morto perché non lo può più dire il signore barbuto che si sente donna non puoi dirgli che non è una donna ti denuncia o se no il bambino che dice l'imperatore è nudo ma portami le prove che portano i dati o le denuncia non lo so la realtà oggettiva la realtà oggettiva viene negata perché non ci sono non ci sono delle prove secondo loro scientifiche che dimostrano che uno per esempio si è fatto male a una mano lo dice lui che si è fatto male alla mano e che è stata la pressa a schiacciargli ma dove sono i dati cioè qui siamo veramente alla follia aggiungo un'ultima cosa e poi mi taccio che mi ha impressionato ma l'avrete vista sicuramente tutti qualche giorno fa ho visto uno spezzone di una trasmissione con tal formigli nella quale un professore che studia da 50 anni il clima portava dei dati sulle precipitazioni dicendo che su uno tipo 100.000 pluviometri soltanto il 5% mostra una variazione sulla piovosità e che quindi diceva i valori sono fondamentalmente stabili questo cattedratico insomma uno che studia queste cose mi è stata lanciata contro una ragazzina strillante una ragazzina isterica di questo movimento creato credo da Soro non so da chi si sia creato ma comunque si chiama ultima generazione che ha cominciato a urlare a piangere dicendo ma voi ci state togliete dal futuro non potete dire queste cose voi ci mostrate dei dati ma la realtà è quella e mostrava un'immagine l'immagine era stata fatta mettendo diciamo ponendo sul terreno una macchina fotografica sul Po in modo da dimostrare che ancora oggi quando sta piovendo da giorni il Po è deserto cioè è praticamente è lì quella è l'immaginazione del potere la società più credula che l'umanità abbia mai visto pazzesco il vate qui da noi di simio eccellente venerabile maestro calasso prima così ridendo abbiamo parlato di situazionismo però e questo ve lo voglio chiedere a Danilo non è in fondo una società allora società dello spettacolo sicuramente perché siamo nella società dello spettacolo ma a questo punto stiamo diventando la società delle forme pensiero quindi è lo spettacolo della società il circo a volte il circo però è pure illusione allora a questo punto non è più situazionismo non è tanto prendere il fumetto e cambiare i dialoghi come facevano Robin Hood la fanzine che tu hai citato in un video ma è proprio la ricostruzione totale di qualcosa che non esiste io ho visto delle immagini con questi programmi di intelligenza artificiale che creano queste immagini anche immagini sacre e c'era uno che diceva state attenti perché in realtà sono immagini che non hanno niente di sacro queste madonne però chiaramente poco virginali diciamo così con sguardi non non propriamente spirituali e quindi si creano queste queste illusioni queste cose che non esistono ma che potrebbero sostituire le vere immagini della realtà ecco quindi che tipo di situazionismo stiamo vivendo Danilo ma sul situazionismo va notato quello che in una grandissima biografia scritta da Jean-Marie Apostolid ha fatto molto scalpore io ho parlato con lui è ovviamente un francese che ora insegna negli Stati Uniti ha scritto una biografia di Guy de Bourne nel naufragere cioè diciamo traduciamolo così naufragante perché in realtà tutti i concetti che sono espressi nel famoso la società dello spettacolo di Bourne furono rubati letteralmente da un pensatore americano che si chiama Boston quindi già l'inizio non è diciamo di specchiato onestà intellettuale io vorrei tradurre qui diciamo quel libricino che fece grande scalpore nell'ambiente universitario francese e da notare che tutte le edizioni dei situazionisti si differenziavano totalmente dalla restante stampa che veniva chiamata allora underground sotterranea perché quella restante schiera di stampa era fatta con i ciclostili cioè con delle macchine per i giovani con delle macchine diciamo casalinghe povere mentre tutta la pubblicistica situazionista era stampata con grande dubizia di mezzi e anche quello uno si dovrebbe interrogare se sei rivoluzionario in genere non dovresti avere tanti mezzi se sei opponente al potere non dovresti avere tanti mezzi voglio dire poi bisognerebbe spiegare come Lenin riuscì ad andare guarda caso dalla Svizzera e Russia in Ucra ma per tornare a noi ha ragione un recente tuo ospite Fallisi che denota questa società come la società degli spettoli cioè questo spettacolo in realtà che doveva portare la famosa Summer of Love l'estate dell'amore e come ha dimostrato McGovern che in realtà non è stata un'estate dell'amore è stata un'estate dove c'è stata una moria di morti violenti di uno spargimento di sangue che ha avuto dell'incredibile ok quindi dallo spettacolo siamo andati allo spettacolo festoso allo spettacolo del cimitero alla società degli spettri io direi con una statistica che tutti possono verificare che un cavallo di battaglia del 68 che eravamo repressi erano repressi società patriarcale fascista Gavino Leda padre padrone eccetera eccetera in quegli anni se uno si prendesse la briga di andare a un'emmeroteca o fare una ricerca presto all'istituto di statistica morivano per l'orrendo delitto d'onore neanche dieci in Italia neanche dieci donne per anno per l'orrendo delitto reazionario patriarcale il delitto d'onore e oggi mi sembra che muore mediamente una donna ogni settimana e quindi il modello pedagogico propedeutico che ci era stato prospettato dal famoso sole dell'avvenire sessantotto sessantottino direi che andrebbe ripensato e soprattutto andrebbe fatto un mea culpa dai fautori di quel modello perché il modello è totalmente fallimentare tant'è vero che due settimane fa un figlio della legge Basaglia quindi del Tavistock di Lange e di Cooper ha preso a sprangate una psichiatra e l'ha ammazzata e non è certo un caso isolato evidentemente è un modello fallimentare e così si è tradotto la società dello spettacolo una società di spettri la società attuale a questo proposito riagganciandomi nuovamente a questo libro di Roberto vorrei che Roberto riassumesse un capitolo che lui dedica alla nascita del 68 negli Stati Uniti che è una storia curiosa che io ho letto con molta attenzione e che non conoscevo quindi piacerebbe che la raccontassi anche ai nostri amici sì molto volentieri la prendo un po' larga rubo un po' di spazio allora dopo la seconda guerra mondiale sappiamo benissimo che adesso la cosa è un po' più confusa ma c'era una chiarissima predominanza etnico-religiosa negli Stati Uniti che era la famosa etnia WASP White Anglo-Saxon Protestant che univa l'etnia la provenienza e la religione e in effetti gli Stati Uniti erano divisi altro che Melting Point erano divisi in etnie nazional-religiose ne abbiamo un esempio nel libro Il Grande Gaspi prima è stato citato l'autore in cui ci sono questi personaggi che sono lo stereotipo di questi gruppi etnici c'è il WASP ricchissimo che gioca a polo che sposa una moglie tanto bella ma cretina cattolica e poi c'è il gestore di questo di questo antro oscuro che ha dei gemelli fatti con denti umani che è ebreo ecco c'è proprio una rappresentazione era così e c'era un forte predominio WASP che non aveva nessuna intenzione di mollare l'osso attraverso diversi strumenti uno di questi strumenti era il test per accedere alle università c'è ancora adesso ok adesso è stato un pochettino cambiato perché è stato molto criticato perché in quell'epoca era praticamente fatto apposta per agevolare l'accesso a un certo tipo di cultura che era poi quella WASP c'erano per esempio dei test che parlavano di regate no è difficile che un italiano di Brooklyn sapesse il gergo delle regate che si facevano a Oxford parlo quelle a Remi no ecco quindi c'erano questi questi item in questo test era un'istituzione superiore che ancora all'epoca era quella che sarebbe servita per formare un'elite che già allora discriminava e lasciava passare solo chi apparteneva una certa cultura e tentava di bloccare le altre questo è stato un po' il diciamo il pretesto la scintilla che ha fatto scoppiare quello che noi chiamiamo il 68 americano che potremmo definire in modo più preciso il free speech movement c'era anche un altro contesto cioè c'era una alleanza diciamo così tra la popolazione nera e la popolazione ebraica negli Stati Uniti che essendo minoranze si davano da fare per in qualche modo contrastare questa predominanza WASP la famosa estate di libertà del 64 nel Mississippi per dare il diritto di voto ai neri degli stati del sud eccetera era coordinata da attivisti ebrei quindi questo un po' il contesto il clima arriviamo all'inizio dell'anno scolastico del 64 quando vediamo un attivista dell'estate di libertà Jack Weinberg che apre all'università di Berkeley un tavolino per propagandare le sue iniziative a favore del voto alla popolazione nera eccetera eccetera è stato immediatamente blindato dalla polizia e caricato in macchina perché il regolamento di Berkeley non permetteva attività politiche all'interno del campus il clima era questo e cosa succede l'amico di Weinberg Weinberg ebreo l'amico di Weinberg italiano Mario Savio anche lui appartenenza a una minoranza etnico religiosa è salito in piedi sulla macchina della polizia questo è un particolare che mi diverte molto togliendosi le scarpe per non danneggiare una proprietà pubblica questo è molto carino e ha tenuto un discorso lunghissimo di ore impedendo la macchina di portare via il suo amico Weinberg a un certo punto i poliziotti esasperati non lo so magari avevano fame cambiava il turn eccetera eccetera hanno rilasciato Weinberg e c'è stata questa vittoria di Savio che a un certo punto è diventato l'eroe del campus cioè si era opposto all'arresto di un attivista politico ebreo che combatteva per i diritti dei neri eccetera eccetera qualche tempo dopo un paio di mesi dopo Savio che era diventato molto popolare sempre a Berkeley sale sulla scandinata davanti a una piazza di questa università le università americane sono un insieme di edifici e tiene il famosissimo the machine speech cioè il discorso della macchina dove fa una teorizzazione anche abbastanza interessante di quello che dicevamo all'inizio cioè lui dice la società americana è una macchina è una macchina che funziona in un certo modo che ha già sa già quali risultati vuole ottenere e praticamente macina tutti quelli che l'unica cosa che possiamo fare noi che siamo penalizzati da questa macchina è mettere i nostri corpi negli ingranaggi cioè bloccare questa macchina allora questo è l'inizio siamo nel 64 praticamente l'ultimo trimestre del 64 l'inizio dell'attività a Berkeley e l'inizio del free speech movement che è diciamo l'origine qui mi piace ricollegarmi a quello che diceva Danilo Fabroni cioè l'origine spontanea a parte l'estate di libertà eccetera ma Mario Savio che sale sulla macchina perché un suo amico è stato arrestato e poi diventa leader del campus abbastanza spontaneo potremmo dirlo questo movimento free speech movement si allarga coinvolge molti ragazzi molti attivisti molte sigle eccetera eccetera e comincia una critica puntuale e decisa nei confronti dell'amministrazione degli Stati Uniti in particolare contro la famosa guerra del Vietnam le cose si gonfiano sempre di più fino ad arrivare al 68 quando questo free speech movement organizza una marcia un sit-in insomma una serie di azioni di disturbo attenzione questo è interessante alla convention democratica che si teneva a Chicago non repubblicana democratica cioè per far male la guerra nel Vietnam loro protestavano davanti ai democratici questo per tornare alla polarizzazione politica eccetera eccetera e cosa succede? succede praticamente un disastro la polizia arriva un massacro generale di questi ragazzi tra l'altro poi si scopre che praticamente queste manifestazioni erano pesantissimamente infiltrate da parte degli agenti dell'FBI sostanzialmente e addirittura qui c'è il famoso processo ai sette di Chicago c'è un bellissimo film su questo periodo che presenta vari protagonisti tra cui Jack Weinberg che abbiamo citato un bel film molto intelligente e molto interessante lì cosa succede? succede che cambia tutto dopo la convention del 68 cioè praticamente è come se il Free Speech Movement perdesse le luci della della ribalta e al loro posto fossero saliti altri protagonisti i famosissimi hippie qui ricordo uno dei dei protagonisti un altro dei sette di Chicago Abbie Hoffman quello che nel film come si chiama il film quello quello della scatola ai cioccolatini Forrest Gump vedete che lo sapete Forrest Gump quello che nel film Forrest Gump ha la camicia con la bandiera americana Abbie Hoffman che è un altro dei sette di Chicago a un certo punto dice questo ve lo leggo c'erano c'erano tutti quegli attivisti i radicali di Berkeley le White Panthers erano tutti in tentativo di fermare la guerra e cambiare le cose per il verso giusto poi siamo stati inondati da tutti questi figli dei fiori che erano attratti dallo sballo e dal sesso da dove diavolo erano arrivati gli hippie cioè gli hippie e i musicisti di cui parlava Danilo e l'LSD sostanzialmente hanno praticamente sostituito con un trucco di magia e qui ancora il riferimento al libro di Danilo con un trucco di magia i protagonisti di questo inizio del 68 cioè questi hanno scatenato una scintilla e a un certo punto sono scomparsi i media non si sono più occupati di loro le televisioni non si sono più occupati di loro e i media hanno cominciato a occuparsi di woodstock di musica giovanile di sesso e di LSD quindi è come se quest'inizio del 68 che ripetiamo risale in realtà al 64 a Berkeley a un certo punto cominciava a ingrossarsi e voglio dire a funzionare è stato sostituito da un movimento assolutamente innocuo cioè questi ragazzi colti ben vestiti con un linguaggio forbito e che rispettosi della proprietà dello Stato ricordo il gesto di Mario Savio sono stati sostituiti praticamente da zombie molto folcloristici che erano continuamente che erano praticamente sempre imbesuiti dal sesso e dalla droga praticamente quindi praticamente innocui politicamente innocui molto folcloristici figli dei fiori ma politicamente completamente inutili ecco da lì in poi questo modello della contestazione giovanile all'inizio universitaria e poi degenerata anche lì lo sappiamo benissimo in Italia con sesso droga e rock and roll in Italia più che rock and roll il pallino musicale l'hanno preso i cantautori però la parabola è esattamente la stessa tra l'altro scusate un'ultima cosa il 68 cioè la fine del free speech movement coincide con la fine del movimento per i diritti dei neri prima abbiamo parlato di questa alleanza tra movimento politicizzato degli ebrei e movimento per i diritti dei neri a un certo punto il movimento per i diritti dei neri scompare vengono uccisi anche lì da pazzi solitari i due leader di questo movimento Malcolm X e Martin Luther King che anche lì attenzione uno nel 65 mi parla l'altro nel 68 Martin Luther King nel 68 quindi proprio in quegli anni lì erano due leader che davano un'immagine molto precisa del movimento per i diritti dei neri erano innanzitutto molto religiosi entrambi uno musulmano e l'altro protestante era addirittura un pastore erano sempre ben vestiti avevano sempre un vestito camicia bianca e cravatta scura sempre ed erano molto colti entrambi ok questi praticamente spariscono vengono uccisi la società giovanile nera viene invasa anche quella di droga non l'LSD che era tra virgolette abbastanza innocua dal punto di vista della salute ma dal più pericoloso crack che era la droga che qualcuno ha riservato ai giovani neri e Hollywood scopre questo filone della black exploitation allora Hollywood non ha mai fatto un film fino a quel periodo in cui il protagonista fosse nero a un certo punto salta fuori questa black exploitation che sono film con protagonisti neri in cui il nero è l'eroe e che caratteristiche ha questo eroe mi sto riferendo alla serie di Shaft e Superfly in particolare sono o un poliziotto ma molto sui generis o un un pappone spacciatore che hanno entrambi la fidanzata bianca però fanno prostituire le donne nere droga ovviamente a gogo sesso a gogo e hanno dei vestiti estremamente appariscenti con dei colori fluorescenti con quella camminata che poi abbiamo visto in John Travolta la febbre del sabato sera di noccolata eccetera se qualcuno si ricorda Staski Hatch c'era un informatore nero ecco il personaggio era quello guarda caso questo modello è stato il modello dei neri americani dagli anni settanta in avanti quindi un modello assolutamente antisociale un modello che sfrutta le donne e sappiamo benissimo le conseguenze che ha avuto sulla popolazione nera il fatto di non ritrovarsi più i padri di avere queste donne perennemente incinte con bambini che non si sa da chi eccetera quindi il movimento per i diretti neri è finito nel 68 casualmente posso aggiungere una coda a questo interessantissimo racconto che ci ha fatto Roberto che diciamo che l'operazione riesce tranne che con una frangia una frangia che viene da diciamo gli studenti per una società democratica che era un gruppo che si era creato negli anni sessanta agli inizi degli anni sessanta e questi creano una frangia violenta che si chiamano i Weber Underground che hanno dato anche il nome a un famoso gruppo musicale di Weberman e questi per all'incirca tra il 69 e il 77 e il 78 fanno migliaia di attentati dinamitardi arrivano a devastare delle parti del Pentagono o anche think tank di Washington attentati dinamitardi vivono in clandestinità e sono molte migliaia e molti di questi muoiono si suicidano fanno attentati e si uniscono a Black Power quindi diciamo che poi alla fine riescono a infiltrarli e a e a distruggersi quindi diciamo che una parte effettivamente la grossa probabilmente il 90% il 95% ha fatto esattamente la fine che ha detto Roberto e c'è però questa franga violentissima loro erano anche disposti a morire per questo che va avanti fino alla fine degli anni degli anni 70 e questo ci ricorda quello che è successo in Italia è complesso il 68 in effetti sì ecco possiamo definirlo un'esplosione che poi è stata soffocata con una coperta è stato tolto l'ossigeno un incendio che appunto è stato soffocato ma dopo essere stato provocato e questa è la cosa che si fa fatica a capire perché tu provochi un incendio provochi questa esplosione di vitalità giovanile e poi la spegni con la droga ecco per esempio Mario nel tuo libro Rivoluzione Psichedelica ne hai parlato molto estesamente ed è un capitolo fondamentale della nostra storia l'operazione Blue Moon che cos'era che cosa anche qui è servita a spegnere tutto quello che poi attenzione perché da noi il 68 è stato più che altro la preparazione del 69 che è stata una stagione di rivendicazioni anche operaie soprattutto e quindi che andavano a maggior ragione soffocate se si voleva se si aveva già in mente di arrivare a una società globalizzata tendente a futuri grandi reset sì c'è un famoso episodio che avviene nel 69 in Inghilterra che diventa a un certo punto uno degli hub diciamo della droga quando si sostituisce come ha detto Roberto l'LSD con l'eroine con il crack eccetera e riescono a un certo punto a catturare i dirigenti di un movimento che negli Stati Uniti in Inghilterra fa da dirige questo traffico della droga che arriva in quel caso arrivava dall'Estremo Oriente eccetera e poi tutto viene messo un coperchio cioè un tenente della polizia inglese scrisse un libro nel quale diceva ci hanno fermato noi potevamo fermare e poi c'è quel famoso personaggio Ronald Stark che a un certo punto che viene chiamato lo zar della droga che a un certo punto ha in mano quasi tutto il traffico dell'eroina che passa in Italia che è amico delle begate rosse amico dei movimenti di estrema destra lo vedono dappertutto a Bologna eccetera ma non si sa chi è poi sparisce c'è anche quell'episodio Mario del commissario di Francesco che anche lui aveva cominciato un'inchiesta sull'eroina in Italia e a un certo punto l'hanno trasferito e l'inchiesta è finita da noi basta trasferire ecco 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 secondo voi perché non ci fu un 68 nel Regno Unito e perché c'è un po' il centro perché lo dice Danilo credo perché in patria nel centro del vulcano non ci doveva essere la pioggia dei lapilli assolutamente lì cantano hanno il prigioniero hanno gli Avengers si divertono non c'è stato nessun fatto di sangue in Inghilterra non è caduto nessun governo esatto anzi poi e poi diciamo gli agenti di influenza no gli scarafaggi li fecero pure baronetti quindi voglio dire era un po' come da noi Pasolini che andava contro tutte e tutti e poi scriveva sul Corriere della Sera quindi voglio dire sull'organo massimo della borghesia che contava dell'altissima borghesia apicale che contava in Italia no voglio dire ricordo la conferenza di un di un mio amico Giorgio Cavallo sulla rivoluzione francese a un certo punto gli hanno fatto una domanda molto precisa e lui dice guardate a questo non so rispondere probabilmente dovete darmi il tempo di guardare gli archivi di Londra e vi risponderò sulla rivoluzione francese certo e magari quella russa eh ecco l'ultima domanda che voglio farvi se volete rispondere ognuno per quello che vuole nel 68 si crea questa contrapposizione tra opposti estremismi eh ci sono delle vere proprie battaglie a colpi di spranga c'è proprio una violenza una ricerca dello scontro anche fisico e anche qui sono eh sono giovani che eh combattono questa lotta che in un certo senso ripropone anche gli ultimi gli ultimi periodi della della seconda guerra mondiale quindi questa questa guerra civile che non era mai stata pienamente superata e forse non doveva esserlo però eh questa contrapposizione poi alla fine negli anni settanta abbiamo eh i movimenti terroristici che poi vengono pesantemente infiltrati orientati manipolati utilizzati per varie operazioni sicuramente non alla portata di quattro improvvisati rivoluzionari tutto questo conduce poi alla dissoluzione della politica perché poi si arriva negli anni ottanta perché doveva entrare in campo pesantemente la televisione con il suo potere di di ipnotizzare eh le coscienze il 68 possiamo dire che è stato l'inizio della dissoluzione della politica fino a quello che è oggi una incapacità di distinguere la destra dalla sinistra per convenzione come si definiscono i due poli eh perché ognuno ognuno praticamente fa le stesse cose che fa l'altro le chiama diversamente utilizza ballon dei sedi di varia di misura e colore però alla fine ognuno conduce sempre avanti la nave verso la rotta prestabilita ecco il ruolo del 68 in questo come lo vedete? direi spero sinteticamente due cose la DAPCO della famiglia Cunningham americana a Roma stampava tanto la stampa underground della sinistra extraparlamentare come quella di destra e la copiata Freda e Ventura faceva attraverso la casa editrice di uno dei due la stessa identica cosa quindi diciamo l'opposizione era quella della società dello spettacolo alias società degli spettri e concludo con questo diciamo l'eredità di tutto quel movimento sessantottino americano l'abbiamo sotto gli occhi recentemente anche noi perché tutto il movimento neoconservatore americano è fatto a parte di una certa genia acclarata voglio dire granitica eccetera eccetera ma soprattutto è fatto da un'eredità che al 95% è un'eredità trussista quindi quindi voglio dire se il neoconservatore diciamo è definito fra virgolette giustamente un movimento di destra ma diciamo le origini sono quelle della rivoluzione permanente trussista e oggi viviamo in questa rivoluzione permanente la peste di Davos la carestia il CO2 la guerra continua tutto il nord Africa che doveva essere messo a ferro e fuoco e riportato all'età della pietra sono tutti doni squisiti del neoconservatorismo americano che poi americano è riduttivo definirlo perché come diceva Scalfari nelle sue poche cose note degne di ricordo è anglosasso centrico voglio dire in questa diade manca un terzo elemento che di nuovo voglio dire è una genia molto getruschi getruschi esatto era nota molto Aldo Moro e a De Gaulle quindi voglio dire è un grande frutto fantasmagorico lewudiano della società dello spettacolo è un una un'antitesi che non cioè hegeliana che poi va a una sintesi che è quella del mondo di rispetto di oggi ma se dico qualcosa di veloce così poi lascio la chiusura Roberto come mi sembra giusto allora si è iniziato lì certamente però ecco i giovani che militavano negli opposti estremismi credevano in quello che facevano alcuni sono anche morti perché in fondo ancora negli anni 70-80 la politica c'era e si faceva e si faceva anche negli anni 80 pensiamo a Craxi che ha dovuto uscire con tutti i suoi difetti ma comunque ha dovuto andare in Italia e la fine o comunque l'immersione del gioco vero è avvenuto attorno agli inizi degli anni 90 come sappiamo benissimo 92 no 92-93 con 20 di cui abbiamo già parlato ma fino a quel momento gli interessi quindi interessi nazionali e quindi la politica c'era si aspettava l'esito dell'Unione Europea l'Unione Europea all'inizio pareva un buon progetto poi è stato preso controllato e portato a diventare fino a quello che è oggi oggi l'Unione Europea sta comprando un milione di proiettili per la guerra in Ucraina ditemi cosa c'entra con quel sogno europeo che fecero fare a me e ai miei compagni al liceo negli anni 80 quando si parlava di federalismo si parlava di federalismo europeo era un bellissimo sogno con l'inno e la gioia sarà una nuova estate dell'amore quindi ecco adesso invece la politica non c'è più bene solo qualche qualche spunto allora il primo non voglio contraddire Mario non sarei neanche in grado perché sai Mario il bene e il rispetto che ho per te però ricordiamoci una cosa che l'Italia insieme alla Germania aveva perso la guerra sì sì certo non aveva per esempio la libertà di movimento che aveva De Gaulle e che ancora adesso ogni tanto la Francia tira fuori non l'ha mai avuta no ne aveva un po' di più di oggi ecco addirittura un po' di più di oggi l'esempio è il famoso famoso underground ovviamente famoso per me partito romano che era un partito cattolico che tantissimi Jedda Guareschi hanno sempre tentato di creare e che non sono mai riusciti perché perché c'era l'ADC che era un partito di ispirazione cristiana e quello doveva raccogliere i voti dell'elettorato cattolico quindi già questo non eravamo più liberi di adesso ma abbiamo perso la guerra quindi non è che avevamo tutti questi questi spazi di manovra ci hanno ucciso Mattei eh quindi cioè gli spazi erano rispetto ad oggi eravamo dei signori però gli spazi erano comunque limitati poi c'è un'altra cosa da dire altre due se non vi annoiate la prima è questa quella degli opposti estremismi allora sapete meglio di me che la locuzione opposti estremismi è stata coniata da un giornalista inglese per spiegare per dare il frame nel quale leggere eh le conseguenze del 68 in Italia perché gli spin doctor fanno questo non danno i contenuti danno il frame il frame era gli opposti estremismi ok una volta dato il frame questo spiega tutto e ci riporta uno schema ben preciso che è quello a me vengono sempre in mente il dualismo gnostico ma quello per cui ci sono due poli che si combattono tra di loro praticamente scilla e cariddi e tu devi scegliere da che parte stare poi questa cosa è stata estremizzata col bipolarismo esatto le due colonne eccetera eccetera che è un tipico modo di pensare inglese perché poi correggetemi se sbaglio gli americani hanno un piano A e se va male hanno un piano A e se va male hanno un piano A gli inglesi hanno un piano A e un piano B che giocano contemporaneamente pensate alla caduta del fascismo attraverso il re attraverso il gran consiglio del fascismo cioè spuntano sul rosso e sul nero ok quindi loro hanno proprio la mentalità di creare queste due fazioni opposte scilla e cariddi ioachim e boaz eccetera eccetera tu sei per l'eutanasia o l'accanimento terapeutico sei per l'aborto o per la guerra negli Stati Uniti e tu devi scegliere tra scilla e cariddi da che parte stare ok e questo è il gioco che ci hanno imposto sempre dal punto di vista politico dico l'ultima cosa poi perdonatemi il 68 in Italia tra i vari effetti che ha avuto ne ha avuto anche uno politico cioè ha visto la nascita di una nuova sinistra adesso mettiamo tra virgolette non dilunghiamoci di una nuova sinistra legata all'espresso a Scalfari che ricordiamo ex partito nazionale fascista ex partito d'azione ex partito liberale fondatore del partito radicale italiano tutto questo lo ha fatto Giulio Scalfari ok una vita per il potere una vita per il potere che cosa ha fatto ha creato una sinistra alternativa a quella che c'era allora in Italia perché la sinistra allora era il PC filo russo marxista dal punto di vista economico e diciamo abbastanza conservativa dal punto di vista morale lui ha creato una nuova sinistra filo americana liberista dal punto di vista economico e liberista anche dal punto di vista morale sostanzialmente ha creato il pubblico che poi qualche anno dopo si sarebbe traghettato dall'unità a repubblica e noi abbiamo visto questa cosa anche nell'evoluzione del PC con i vari cambiamenti fino al PD di Renzi per dire ecco c'è stato un cambiamento uno spostamento dalle steppe russe fino all'Atlantico dal comunismo marxista al liberismo dal conservatorismo diciamo morale al liberismo morale ecco quello è successo proprio durante il 68 ci sono delle testimonianze che dicono che l'espresso ha avuto un ruolo di punta sostanzialmente nel gestire nell'indirizzare le riunioni dei sessantottini l'espresso è stata la culla da cui è nato il manifesto che era l'anti-unità e molte riunioni nel 68 a Roma si tenevano nella sede del partito radicale quindi abbiamo davvero una nuova stiamo parlando ovviamente degli anni 70 che nasce proprio in quegli anni poi la svolta grossa l'abbiamo avuta dopo la caduta del muro di Berlino nel 92 in Italia quando veramente è stato imposto il bipolarismo non doveva probabilmente andare così però hanno tolto di mezzo tutti gli altri e alla fine restavano due partiti per due poli diciamo che è quello che Costanzo Preve chiamava il serpentone metamorfico che alla fine si è morso la coda ha creato un uroboro ed è quella sinistra radicale di cui aveva aveva visto aveva visto la nascita Augusto del Noce partito radicale di massa esatto che è un filosofo stranamente oggi mai citato che invece andrebbe secondo me molto riscoperto perché ha avuto questa intuizione fondamentale però essendo un cattolico naturalmente e non solo era cattolico per quel poco che conosco non solo era cattolico ma non era incasellabile in questo gioco di Scille Cariddi cioè non si riusciva era cattolico non era democristiano e non ci stava neanche a spingerlo nella DC quindi non ci stava quindi è chiaro che è scomparso perché devono esistere solo Scille Cariddi è stato veramente interessante ascoltare tutti voi perché abbiamo forse dato un ritratto un po' diverso non abbiamo fatto la geografia non abbiamo fatto i peana o sentimentalismi nostalgie quindi non ci possono neanche dare dei boomer con le nostalgie del passato anche perché eravamo bimbi quindi non è che abbiamo fatto 68 però ne abbiamo avuto dei colpi di coda e credo che anche i nostri amici avranno apprezzato questo racconto di questa visione un po' diversa un po' alternativa forse anche abbastanza rivoluzionare da un certo punto di vista su quello che è diventato un totem se siete d'accordo su questo un assoluto totem che però deve essere interpretato poi alla luce di ciò che ha provocato nel bene e nel male soprattutto ahimè nel male perché le conseguenze sono state piuttosto negative quindi ringrazio infinitamente della partecipazione a questo dibattito ma non è stato un dibattito è stato molto ognuno ha potuto esprimere le sue opinioni cosa che si trova solo qui e non in televisione dove in televisione nessuno riesce a parlare perché viene o interrotto o messo abilmente in mezzo alla fossa dei leoni quindi ringrazio Danilo Fabroni e Roberto Marchesini di cui mostro nuovamente questa ultima fatica letteraria saggistica anzi è un saggio 68 illusioni e inganni dove si trovano tante cose interessanti per continuare ad approfondire quest'argomento grazie a tutti e arrivederci al prossimo incontro grazie a voi buona serata buonanotte buonanotte grazie a tutti